Una casetta ricolma di scatolette appena fuori il portone della scuola. Simboleggia Io sto con l'Emporio, l'iniziativa dei ragazzi degli istituti superiori della provincia contro l'emergenza alimentare promosso da Fondazione Carispezia, Caritas Diocesana e dai distretti sociosanitari della provincia. Un modo per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori a prendere parte attiva all'Emporio della Solidarietà, il supermercato nato per fornire un aiuto concreto a persone e famiglie in condizioni di bisogno. Quello che abbiamo raccolto a questa esperienza è sicuramente tanto entusiasmo, forse è una frase di circostanza ma non la è più di tanto perché vedere una scuola che prende questo affetto, che desidera dare questo contributo, che desidera mettere veramente un impegno che non è obbligato, non è nemmeno scontato di conseguenza e soprattutto cioè di toccare il frutto di vedere che quello che loro portano ne viene dato appunto alla Caritas arriva direttamente alle persone che hanno bisogno. Ad oggi l'iniziativa ha già coinvolto 1200 studenti tra la Spezia e Sarzana e prevede anche che i ragazzi possano contribuire attraverso speciali giornate di raccolta organizzate all'interno degli istituti a rifornire gli scaffali del market solidale. Da ora il nostro istituto partirà da questo punto che non è un punto d'arrivo ma un punto di inizio sperando di arrivare a risultati molto più in alto di oggi. Comunque abbiamo raccolto più di 500 scatolette di legumi che è già un ottimo risultato. Il coinvolgimento degli alunni e degli istituti superiori del territorio e delle loro famiglie può costituire un grande aiuto all'emporio, oltre a rappresentare un'importante occasione di crescita e presa di consapevolezza da parte degli studenti. Quest'anno la scuola ha partecipato come sempre al progetto Link finanziato dalla fondazione quindi il 14 l'istituto metterà in scena lo spettacolo Luna. Ovviamente l'ingresso sarà libero però chiederemo alle famiglie, agli studenti che parteciperanno come spettatori di portare un libro, un indumento e un oggetto invece che serve all'emporio mettendo la casetta dell'emporio della solidarietà all'ingresso del teatro. Da qui l'idea di un progetto di comunicazione a favore dell'emporio con un concorso a premi tra le scuole promosso dalla fondazione Carispezia. Il fatto che l'emporio entri anche nella vita dei giovani, nella vita degli studenti, nella vita delle nuove generazioni è un segnale importantissimo. Il progetto di coinvolgimento delle scuole superiori attraverso questi contenitori alle mie spalle così stimolanti, così creativi serve proprio per dare incontro a questa esigenza e poi per avvicinare sempre di più i nostri ragazzi a quella partecipazione attiva che è una delle cose più importanti per una comunità coesa che sa di dover contare non solo sull'aiuto economico, non solo sull'aiuto delle istituzioni ma soprattutto sull'impegno di tutti, dei singoli per affrontare le sfide del futuro.